Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscolo. Oggi ragazzi rispondo ad un signore che mi chiede dottore come possiamo fare per essere calamite del benessere, calamite di tutto ciò che di meglio gira attorno a noi. Ho letto tanti libri sulla legge dell'attrazione, su essere calamite, sull'essere magneti, però fino ad oggi non ho visto grandi risultati. E io gli ho risposto, questa risposta serve anche per te che mi ascolti, che per essere attrattivi, essere come una calamita bisogna, ascoltami bene, convincere il tuo pilota automatico, il tuo subcosciente, perché altrimenti saresti una calamita da giocattolo. Devi essere veramente un magnete fortissimo per attirare a te nella tua vita cose incredibili, meravigliose. Se solo se parli alla tua parte subcosciente che è l'88% della tua mente, senza se e senza ma. Molta gente ragazzi, come anche io tanti e tanti anni fa, pensa di leggere un libro e di risolvere i suoi problemi. Però che succede quando leggi un libro fai un corso, la tua parte cosciente, la tua parte critica, il 12% della tua mente, la tua logica, la tua razionalità, mette in dubbio automaticamente perché l'universo, Dio, nostro Signore ci ha fatti così a criticare, a dubitare. Perché se ci siamo fatti così? Per proteggerci, rifletti, perché non possiamo credere. Soprattutto se il tuo subcosciente ha la parola dubbio insita in sé. Se non ce l'avesse diventeremo come i kamikaze nella seconda guerra mondiale, i piloti giapponesi che si catapultavano per l'aldilà contro le navi americane. Bene, che succede? Che per diventare calamite del meglio del meglio che c'è nel mondo, sia materiale che non visibile, devi convincere il tuo subcosciente. L'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola è la chiave suprema, secondo il mio modesto parere, per aprire il tuo subcosciente e cambiare modo di pensare e di vedere la vita. Se riesci a convincere il tuo pilota automatico, anche con un solo audio MP3 di CS, seguendo la lettera e l'istruzione, molto facile, la prova di un nonno, la prova di un piccolo, la prova di un idiota, tu potrai veramente attrarre a te tutto ciò che desideri. Certo, se ne metti più di uno, acceleri questo processo. Ti posso garantire che funziona, funziona e funziona, senza ma e senza se. Se fino ad oggi non hai ottenuto risultati, ti sei concentrato con la mente, voglio, voglio, voglio e non ci sei riuscito, beh sappi che non sei arrivato lì dove devi arrivare. Ok? Solo a te la scelta. Fammi tutte le domande del caso, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi o tipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipronologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube, benessere, ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino e facendo condividi con amici e pareti perché può essere quel quid o quella molla che gli può cambiare la vita. E seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere, ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino. E finisco con una delle massime che mi ha colpito nella mia vita, quella di San Francesco d'Assisi che recita nel 1100 d.C. visto eppure non conosceva l'ipnosi. Attento a ciò che dici e ciò che pensi perché può diventare la profezia della tua vita. Un bacio, un abbraccio e alla prossima. Ciao!